Musica Ehi star Ehi, cosa pensi stiano preparando per il festival culturale e classi della tua vecchia scuola? La scuola di Naba ha un sacco di attività diverse per il nostro festival culturale Immagino che sia uno dei pochi eventi scolastici che tutti non vedono che arrivi Io no, fa schifo la scuola, va bene Vero, spero che sia davvero interessante, soprattutto per certi eventi Ed eccolo lì che corre Sono sicuro che l'evento qua del festival... cosa c'è lì? L'evento del festival nell'anime si ha animato tantissimo bene C'è un avviso caratteri cubitali in Bakeka, il concorso di Miss Yasogami Sembra annunciare un concorso di bellezza che si terrà durante il festival culturale Ovviamente Il nome di Noriko Washigame è eccessivamente sulla lista degli iscritti Le altre concorrenti sono Sulla lista è pieno di nomi familiari Yukiko Chie Poi Rize, ovviamente Naoto Mi sembra strano che Naoto voglia Ana... Anako Oddio Anako Il gruppo Dio mio Io non voglio sapere cosa farà Anako Non voglio proprio esserci in quel momento Perché penso che non sia stata lei a scrivere soprattutto Naoto? Naoto non ci penserebbe neanche Io non penso che l'abbiano fatto loro Ehi pezzo di merda Anche ho fidanzato Faccia di merda Ecco Ti pareva Grazie qualcuno l'ha detto Perché i ragazzi con gli occhiali sono tutti magnaci Schifosi Sembra che ogni ragazza abbia già i suoi tifosi Perché ho l'impressione che voglia parlare di questa cosa qui? Grazie C'era bisogno di puntualizzarlo Ti è stato chiesto di salire sul tetto durante il pranzo S'era successo qualcosa? No Vediamo No dai Gli danno la colpa a lui Dicci la verità Ah quindi sei stato tu stronzo Come darsi a zappa sui piedi da solo Io non lo faccio E io chi sono l'ultima delle stronze? Ecco appunto Nei miei ci rientri tesoro Non ti preoccupare di quello stronzo Non proprio certo che si partecipate Maledizione Va bene Va bene Sì dai Che di Che stronzi Ma tanto io ho la vista di C quando voglio Però Eh beh quello è ovvio Sì secondo me è Perché mai Bravo Kanji Io non ho mai scelto Eh esatto Doveva dirlo qualcuno Voglio vederti Oh cazzo Sono da maniaco questo Eh esatto Sono arrabbato Oh Gesù Kanji I preparativi per il festival culturale che si terrà tra due giorni procedono bene Oh mi chiedo se verrà anche Nanako però Forse dobbiamo chiederglielo Ma poverine Ma andate le ragazze a prendere le cose Al Giunesse Ovvio Oh cazzo Oh cazzo No, non sto ascoltando per un cazzo, scusami. Il Gokan gestito dalla vostra casa durante il paese del culturale è ormai alle porte. Dopo scuola, sera. Ok, D. Ah, ecco. Stasera c'è in giro solo Riese. Ma io adesso sto vedendo tutte le sere al santuario perché avere scoperto che posso uno prendere gli insetti quando voglio senza perdere tempo e due poterlo fare anche di sera. Cioè mi fa capire quanti ne abbiamo persi fino ad ora. Noi abbiamo bisogno di comprensione, ma anche della diligenza. Quindi, accarezziamo o il gatto o facciamo il modellino, nella speranza che accarezzare il gatto stasera ci dia la comprensione. Dialettica e basta. Che palle! Tornerò indietro nel tempo e farò qualcos'altro. Che è successo? Scorge un avviso carate e cubitali in bacheca. Il concorso di Miss Yasogami. Sembra che il festival culturale si terrà anche un concorso di crossdressing. Cosa? No, aspetta. Sono sicuro che ci siamo tutti. Esatto. Star Phoenix è proprio il tuo nome. Grazie. L'hanno fatto le ragazze, vero? Ecco, appunto. Sono sicuro che sia stata Cie. Sì, ti piacerebbe. Ma chi ti si incula, disgraziata? Ecco, appunto. Non so di cosa parlate. Pare siete stati tutti iscritti al concorso di crossdressing del festival culturale. Ma Teddy c'era? Pranzo, dopo scuola. Beh, Teddy effettivamente non è parte della classe. Facce di merda! La tiffa non è parte della classe. Ottieni. Qualcuno? Cosa cosa? Ci sono segnini di riconoscimento. Ecco, li ho chiamati il nostro nome. Quanto la tua. Ah, andruca. Di scemo che non è certo. Niente che sta chiedendo a tutti. Che ci si racchettano anche tutti. Cosa si racchera. Per andare di riconoscimento. E' la tuaoccolata. Mi bambini è felicità. Quanto la gente è un'espero che c'è. Ma io che c'entro Sono il tuo fidanzato Sono una brava persona Dai job Ma quale dignità Ce la metterò tutta Voglio vincere Se devo partecipare lo farò Eh ma va Lo farai invece Fammi bella almeno Vinceremo Se devo partecipare Io vincerò Sappilo Lei è Lei vuole Lei proprio Lei vuole che partecipiamo Non è questione di virilità È questione che io devo vincere Stronzi Oh no Vabbè per me non è un problema Tanto me ne vado Come anche loro Però loro non lo dicono Eh esatto Spero che mio zio Non lo venga mai a sapere Senti Ho saputo delle cose Sudite a scuola Non va bene Non va bene per niente Come lo dico a tua madre Che sei diventato Un travestito Devi riposarti Per la preparazione Del festival culturale Di domani Eh beh Vabbè Andiamo a dormire Daglie Sabato Tra l'altro Il 31 è anche festa Eh beh certo È Halloween Oggi inizia il festival culturale Ti chiedi se il progetto Di classe sarà un successo Affrettati a scuola Che bella Addirittura Come è uscita bene La classe Stand della classe Goccon Non si ferma nessuno Oh che strano Goccon 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 Ehi Ehi Faccia di merda Meglio dai Guardate le calze Di questa ragazza Sono bellissime Guardate le cosci di quella Ragazza Sono fighissime D' Cosa? Ma no Avventati su un posto Dei ragazzi Siediti impavito Dal lato delle ragazze Oh Lato dei ragazzi Affanculo voi Io conquisto la mia E chi l'ha deciso? Oh no Wow Che tristezza Che tristezza Di cosa 3 2 1 Iniziamo noi Strano Ero sicuro Apparisse Esatto Silenzio opprimente Stai zitto E fa la tua parte Beh sei anche bravo a farle In realtà Non è Non è da sminuire La cosa Ero sicuro Ero sicuro è un po generico è una casa mira un po generica come cosa segui o mai da so sicchina ommeno con un type d'atte Cazzo lo sapevo quelle come ci e quelle gentili una vale l'altra quelle gentili forse vale come lui proviamo dire ci e dai Beh deficiente siamo fidanzati quindi misto di imbarazzo e contentezza Mi piacciono Quelle come una auto Ma chi lo sa Dovresti provare a fare una domanda allora Sembrerebbe poi spuderato che parliamo solo con lei vai yosuke Oh no Il silenzio opprimente Wow che state facendo Ciao ciao Oh no cammina pure all'indietro cazzo Gokonki Sì Hai La prima giornata del festival culturale è terminata in maniera singolare Decidi di farti almeno un giretto a scuola prima di rincasare Con cie Nei corridoi del liceo di asogami Wow questa classe ha allestito una mostra di manufatti locali Altro che la nostra Voi due da un sacco che non vi cago scusatemi tra l'altro Hanno deciso di organizzare una recita Che idea del cavolo Ormai è tardi per lamentarsi Anacleto E Amleto Non Anacleto Comunque sia perché mi hanno affidiato quel ruolo E chi diavolo ha scritto il copione Romeo Giulietta Amleto Scherziamo Dai calmati Domani sarà una giornata molto più interessante Giusto star Mi chiedo se Allora è probabile che tu Possa non aver scelto Proprio mai in tutto il gioco di fare Tipo né quello di teatro Né questo qua dello sport E mi chiedo se tu non avessi scelto Cosa sarebbe successo qua ad ora Punto di domanda Giusto farò il tifo per te al concorso di bellezza Ricorda il secondo è solo il primo dei perdenti Wow Profondo Ti sei divertito con coi dei suke Dovrei cagarli un po' di più questi Ah ma qui usciamo con tutti i nostri confident davvero Che figata Ci facciamo leggere la mano? La cartomante dal naso lungo? Ma dai chi crederebbe una scemenza del genere? Chi è? Sei molto sicura di te Ah Sei migliore di quanto pensassi Vuoi sfidarmi? Scommetto che non vincerai La tua arroganza sarà la tua rovina ragazza mia Ah Questo vuol dire che accetti? Ti sfido a fare una predizione Senza limiti di tempo Se vinco come è ovvio che sia Farò a pezzi questa baracca Pure Il tema della nostra sfida sarà Il rapporto di star con le ragazze Allora parto in vantaggio Che significa? Allora Allora parentesi Chi c'è là dentro? E' trascorso dei momenti vivaci con Ai Allora sono contento che in realtà questo evento qua del festival Ti dia la possibilità di avvicinarti con tutti i tuoi confident Secondari forse In modo gratuito Penso che Yumi non l'abbia calcolata perché l'abbiamo finita Forse per quello Oh E' tornato Tu sei qualcosa del cross dressing? Oh Hey star Nanako non vede l'ora? Oh no Nanako mi vedrà vestito in quel modo Domani ci vedo di nuovo Porto anche papà Oh no Non è sbueno questa cosa Non è sbueno Dovresti riposarti un po' per il secondo giorno del festival Vai Che bello però Allora queste sono le cose che mi piace un sacco del Giappone A livello scolastico parlo Perché Queste cose Gli le fanno proprio godere agli studenti In Italia non c'è per nulla questo concetto ed è Magari una tristezza uno direbbe Però non abbiamo proprio il concetto di queste cose qua Sarebbe bello se lo introducessero ma Non succederà No ci devono truccare vero Cazzo Anche Nahoto è qui Prenditi cura di me Inizierà a breve Sembra che dovrei rassegnarti e lasciare che Yukiko ti trucchi Che sogno hai Teddy Scusami Eh meno male dai E beh già che ci siamo Eh esatto Allora Allora uno penserebbe Naoto si veste un po' da maschio eh Non saprà nulla di trucco Teddy sarà la più bella di tutte Ne sono sicuro Ma proprio non ci metto neanche il dubbio Ecco Vedrai 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 Tu sei una signorina cazzo sei quasi nobile Ne sono sicuro Tranquilla ce l'ho io Ma è anche tu quindi Così non ce lo fanno vedere Oh no Cazzo Ma io voglio vedere quello delle femmine che cazzo me ne frega dei maschi per primi Miss? Siamo noi di sicuro Ah no è Kanji Ah bene Ridete ridete pure Ah Che Quello è vero però Ah 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 A Ah Donne Forse Ah 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 Altra Formate Ah PORCAMARCA Siamo noi per forza dai Che cazzo ridete sono bellissimo Vi ammazzo tutti Sai cosa Vaffanculo vi faccio Vi faccio anche Imbarazzo a tutti faccia di merda Ecco ti pareva Ma è Alice nel paese delle meraviglie Ma perché Teddy non è donna Eh esatto Ma perché Teddy non l'hanno fatto femmina a sto punto Ma chi vuoi che abbia vinto Ma poi siamo solo in quattro Scusami non c'erano iscritti più persone Eh appunto Eh sentiamo Ma dai Eh beh è vero Beh Teddy e Teddy dai Sei lo contentissima Bravo Teddy Finalmente vedremo una auto in costume Li ho portati io Ecco Lo sapevo che puntava sulla corda giusta Ti sei rimesso l'uniforme E sei uscito Hai ottenuto il costume drag No Più tardi quel giorno Nello spogliatoio del concorso di bellezza Ma siete solo in sei Scusami Uè stronza Ma certo che vuole vincere Vuole far sicurare le ragazzine Sta stronza Hai costumi Cazzo no Metterveli Non dovresti vergognarti Allora io Una così Sicuramente Una occhiata Gliela darei Non fotte nessuno Una con quel fisico Sicuramente Una mezza occhiata Gliela tirerei Tu stai zitta Ti odiano tutti Se ci fosse una mod per levarti dal gioco Io ti leverei oggi Che zoccola Stai zitta Ti odiano tutti Sì Sì è inutile per te Perché ho come la vista Di tutti Stai Zitta Puzzola Di merda Sei un orso Che russa Beh esatto Esatto Fai stare al posto Quell'orso Dammi quei costumi Stavamo aspettandosi di te Cosa ti aspettavi da Cie Spurla ma lo so lo spara Tu non vai da nessuna parte Hai deciso di guardare il concorso Insieme a Yosuke e Kanji E beh Ci mancava anche che noi andavamo via Eh Però non sono in costume Ah sono vestiti normali così dai C'è un ragazzo che ti piace? Sono tutti della classe Ah no non è vero Cioè Naoto non è della classe 2 Scherzavo Dio mio Ah beh puntiamo su quello allora Io sono sicuro che comunque la prof abbia ottenuto dei voti Mi ricorda Teddy l'altra volta al concerto con le manine Vabbè ma questa punta sul facile dai E vincere facile così A chi ha esperienza Vestita da uomo Vestita da uomo Tutti i piscari Posso andarmene Ma scusa mi sembrava che la lista fosse infinita E invece sono solo in 6 Dio mio Dio mio Teddy Eh Eh, se me si ritorna soltanto, potrei farlo inizioso. Eh, Chihe, tu hai il tuo suo? Eh? Ma... B... B... Baga! Yukiquo, di chiudi sonore? Eh? Y... 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 Meta! Naoto, si... Il tuo corpo è morto? sono sicuro di sì ma dai e le altre due nessuna domanda comunque ma io pensavo si fossero già cambiate ma scusami cosa hanno fatto in classe prima con quei bei piedozzi mamma mia dopo nonostante tutto la prof ehi cretini di merda voi due vabbè yukiko è carina però ma se l'hai già vista in costume ma sei scemo rise 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 eccola l'hai già vista yosuke dai dai facci vedere ma no sono sicuro che era carinissima ma perché secondo me non vuole far vedere la misura stai zitta stronza poverino già assolutamente io voglio votare per naoto nonostante amici voglio votare naoto non me ne frega niente voglio votare naoto sì magari si fa un po' di coraggio dai non importa almeno si fa un po' di coraggio ne dubito ne dubito oh ma dai è scappata ma no vabbè ma quella era normale l'invidia c'è ovunque su quello non c'è dubbio si devono stare zitte tutte e due tu ancora ancora ci stavi ma l'altra deve starci solo zitta devi stare zitta zitta hai perso perché sei arrogante sei arrogante pensavi pure di vincere e così il concorso di missi esogami è giunto al termine eccola qui naoto ti prego fa che non mi abbia visto abbiamo visto quello che è successo ah ok no certo non è che fosse un problema non è che fosse un problema passa ciao ci vediamo ma a parte che Dojima sta fumando dentro la scuola non si potrebbe ma come pure posso non ho detto questo ah strano eh vabbè dai non ti dice di no certo che puoi perché no ti sta invitando pure pure non è un problema ecco appunto ah yahoou stanotte tutti dormiranno alla pensione a maggi finalmente la vediamo sta pensione E sono sicuro che le terme saranno uguali A quelle dell'altro posto Sicuro In una stanza della pensione a Maghi Eh cosa ti aspettavi cretino Eh oh capita No mi spiace Bel posto Su quello non c'è dubbio Nel senso qualche omicidio Il telefono sta squillando Mi aspettavo la musica Quella di tensione Vai tu senpai Strano mi aspettavo che lo dicesse a noi Le mani di Kanji Stanno tremando Ah Sosuka Domo L'altro posto Cosa ti aspettavi Ottimo Tutti a lavarci che puzziamo Oh dai che aumentiamo di nuovo il rango Cosa siamo e beh i sette nani Credo di no Vabbè l'importante è quello L'importante è quello Teddy L'importante è che ti diverti dai Teddy ti guarda con gli occhi pieni di gratitudine Sono contento che però vada avanti da sole Cioè non per cattiveria Ma che non dobbiamo perdere le giornate con lui Non che non mi interessi però Cavolo Influenzata anche la sua persona Con Samarekarm Direi di no Cioè se vogliamo riportare qualcuno in vita Avremo chi lo farà meglio Arriviamo Ah Non me l'aspettavo animata io eh Oh Mi aspettavo si buttasse Puff Dentro subito Ma dai Che carrucette In versione animata Yukiko si vede molto di più Che c'ha gli occhi Asiatici Che carino Te l'avevo detto Lo sapevo Lo sapevo che erano troppo giapponesi Per non fare una roba del genere E dall'altro lato Beh si è enorme quel posto Che carino Possa Adesso tutti a toccarla Mamma mia Non ci sono Ma ora finchè ci siete voi Brava, così si fa Mamma mia Io voglio finire il gioco per vedere l'anime Perché ho anche il presentimento che in queste scene ci sia anche Marie Ne sono convinto, cacchio Pff, basta Ogni tanto Ma dai Vabbè ma tu sei quella più atletica, dai dovresti vincere subito Oh no È morta Ma dai Ma che seccaretino Ci hanno chiamato dalla reception Non è colpa nostra E intanto sotto Sotto il lenzuolo Ma poi è caduto su Aia Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Come leader ordini Non arretriamo Fai appello a tutto il tuo coraggio e resisti Ma in fondo a che serve il coraggio in una situazione del genere Ordini la ritirata Oh no Però è bello che siamo riusciti a resistere grazie al coraggio Ma poverina Yugiko Gli sarà finito sul collo Poveraccia È stato un assalto alle ombre in piena regola Oh no È colpa mia No Sono scema Pompino sorpre... No Facciamo finta di nulla Ti sei messo lo yugat e sei tornato nella tua stanza Hai ottenuto l'asciugamano Voglio lavarmi Oh no Tendi Un poverino Che male Io si Io si ho visto tutto Viene dal televisore Allora era palese Però Vuoi dirmi che c'è un rimasuglio Oh no Vuol dire che O l'ombra è ancora attiva Della persona morta E questo vorrebbe dire che se questa cosa è giusta Allora la senpai di Yosuke potrebbe essere ancora cosciente Ma dai Già ti ho tirato dei secchi qua perché sei entrato nella cacchio di vasca Andiamo a controllare Andiamo a controllare Andiamo a controllare Che cos'è Che cos'è Kuma Perché ho l'impressione che Che Rize si svegliera con gli occhi così come quando era ubriaca Cosa c'è un maniaco No quello no deficiente Sei buono Che siete cretini Perché ho l'impressione che sia una trappola Oh no Yuki-chan O化け怖いよ Y-yoshi O-re da te na O-o-to-co mi se l'e Sa Sato-naka-senpai Y-yoshi Y-yoshi Are Futo Tari n'a Cosa Justo Na ni Muuu A-ra Ah, non è... trovi così? Si, ma... Sì, perché ci sono? Sì, trovi che non per me... Allora, la prof è ok Ma perché c'è anche lei? Ah, sì, sì Sassi, ci sono Sassi 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 E' la sera, gangbang con la prof. Non apprezzate nulla voi. Decidi di lasciare perdertoni nella tua camera. Non sapete apprezzare il doni che avete, facce di merda. Ah, ma voi siete ancora lì, scusami. Eh, esatto. Nanako? No, aspetta. Non Nanako. L'altra, Anako. Come cacchio si chiama, si chiama. Ovvero ogni due giorni, tipo. Ma sì, sei carrucetta, eh dai. Ma noi ci siamo lavati, porelli. Così termina la notte la pensione a Maghi. Così come cacchio. 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 Grazie a tutti.